sì 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 abbiamo vinto questo derby dai e roma 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 finalmente derby vinto e andiamo magica roma forza roma ti amo roma mia ti amo finalmente dopo tanto tempo rivinciamo un derby finalmente sto al settimo cielo sono contentissimo roma 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 mamma mia mamma mia che gioia una gioia infinita era ora da quanto tempo troppo tempo ah finalmente questa vittoria ragazzi non ne potevo più di aspettare non ne potevo più era troppo tempo che la roma non vinceva un derby ero abituato a vincere a vincere queste partite quanto abbiamo tribolato in questa in questa gara devo dire fino all'ultimo abbiamo preso anche la traversa il palo con il sciaragli l'avevo vista dentro io quella quella palla ed era il 2 a 0 ed era finita poi ho sofferto a non finire quando ho visto la palla entrare in rete della lazio che poi era fortunatamente in fuorigioco fortunatamente in fuorigioco ragazzi oggi ho visto la grinta oggi ho visto la la voglia di giocare per vincere la voglia di giocare per vincere della mia roma l'ho vista cosa che non avevo guardato osservato nelle altre gare soprattutto contro il lecce oggi la roma è scesa in campo con la testa per vincere la gara e l'ha fatto vedere primo tempo abbastanza equilibrato però la lazio lasciatemelo dire non ha avuto tutte queste grandi occasioni e a parte il gol che giustamente andava annullato perché era fuori gioco poi in attacco è stata sterile svilare non ha parato quasi nulla ditemi il contrario non lo so io magari ho visto la partita a caldo adesso qualche episodio mi è sfuggito però la roma secondo me ha meritato questa vittoria fino all'ultimo verso il finale abram anzi ha entrato abram e ragazzi una bellissima notizia per noi umanisti rivediamo in campo abram sono felicissimo e come andava 200 all'ora un altro po' segnala dava il passaggio per il gol di lukaku che poi si è girato e non l'ha presa però l'ho visto abbastanza in forma e questa è un'altra sorpresa oltre alla vittoria di oggi sono contentissimo per abram ah finalmente mi sono liberato ragazzi mi sono liberato vi voglio bene a tutti tifosi romanisti e non anche a chi ha tolto l'iscrizione anche a chi non è più un mio follower questa sera godo questa sera sono felice sono al settimo cielo perché finalmente la mia roma la mia roma vince il derby capitolino che per noi qua è come se fosse una finale con de rossi in panchina con daniele de rossi daniele de rossi bello de casa daniele de rossi ragazzi oggi se parliamo delle individualità mi è piaciuto tantissimo iorente dietro un baluardo insormontabile veramente un un muro un muro oggi di orente e mancini l'ha messa là con quella caposciata ha fatto esplodere lo stadio olimpico una caposciata di mancini bella mia bella sono felicissimo sono al settimo cielo oggi non parlerò adesso a caldo sto facendo questo video non parlerò delle delle individualità della lazio perché sinceramente non non ci sto pensando e ho visto soltanto giallo rosso oggi ragazzi ho visto soltanto vincere la partita che aspettavo da tantissimo tempo enrico caffarelli rimuginava aveva dentro tutta questa ansia questa questa voglia di vincere questa cara che finalmente oggi l'abbiamo vinta oggi abbiamo trionfato finalmente il derby è di roma finalmente roma è giallo rossa forza roma vi voglio bene a tutti grande roma bella roma mia ciao